Ciao a tutti, ben trovati, sono qui per ricordarvi la seconda puntata di Tomoob, giovedì 13 aprile alle 19, in diretta sulla nostra pagina Facebook, quella naturalmente di Torino Web TV e sul nostro sito. Insieme a me Nicoletta Fabrizio, Presidente dell'Associazione Culturale Iobras e Barbara Cinquatti. Parleremo di Evento Poetry, un evento molto carino e particolare, parleremo di un concorso letterario e naturalmente di molti eventi che incontreremo per il weekend pasquale, lungo weekend pasquale. Io vi aspetto giovedì 13 aprile alle 19, mi raccomando mettete mi piace sulla nostra pagina Facebook e condividete con gli amici, vi aspetto, ciao!